Questa sera in primo piano le lingue come latino e greco, che venivano definite morte, in realtà non sono assolutamente morte, sono lingue definite, il termine più corretto, in questo momento nella digitale c'è un ritorno per greco e latino, aumentano le iscrizioni in licei classici d'Italia e anche in provincia di Sogno, ne parliamo con il preside, il dirigente del liceo Piazzi Perpenti, il professor Angelo Grassi, buonasera. Buonasera. Ecco, come si spiega questo ritorno alla greco, al latino, nell'era digitale? Ecco, il fatto è che ci si rende conto sempre più che in un mondo dove la comunicazione ha assunto un ruolo preponderante, improvvisata. Certo, in una prima battuta l'improvvisazione può anche piacere, quando però si tratta di effettuare delle comunicazioni ufficiali, delle comunicazioni in cui si vogliano raggiungere degli obiettivi e anche degli scopi persuasivi, questa deve essere impostata su basi solide e non esistono basi più solide di quelle umanistiche. Ricordiamo che il ruolo dei greci e poi dei romani in questo settore ha fatto scuola all'intera civiltà occidentale. Basti pensare anche al diritto, che ancora oggi è un diritto legato al diritto romano. Certo, ma anche l'Arso Oratoria, che per secoli è stata studiata e in modo accurato, quindi conoscere il mondo classico diventa fondamentale per sapere quali sono le migliori esperienze e per innestare queste migliori esperienze sulle conoscenze che sono state via via acquisite sia nei secoli sia in questi ultimi tempi e che quindi permettono di riproporre il vasto patrimonio culturale classico su basi nuove e come se si trattasse di una autentica novità. Quindi avere buone basi di tipo umanistico costituisce per certi aspetti una necessità anche e soprattutto per chi poi si occuperà di altri campi del sapere. Guardiamo anche al vostro liceo, che quest'anno è stato teatro di iniziative di respiro nazionale come la notte del liceo classico, era una prima assoluta per il vostro liceo? Sì, abbiamo voluto provare quest'anno questa esperienza e il successo è andato al di là di ogni aspettativa perché gli studenti hanno investito tantissimo tempo e tantissima voglia di fare e il risultato è stato una manifestazione multiforme e di notevole spessore quindi la nostra intenzione è replicarla. Ed è di questi giorni il Certamen Alpinum? Vuole spiegarci cosa si trattava? Sì, si tratta di una competizione con la quale il nostro liceo voleva raggiungere questi obiettivi la valorizzazione intanto degli studenti più meritevoli la promozione dello studio della lingua e della civiltà latina la creazione di collegamenti con gli studi universitari e infatti ha collaborato fattivamente alla realizzazione di questo certamen un docente dell'Università di Pavia e oltre a questo la valorizzazione del territorio valtellinese. A dire il vero la prova quest'anno è stata svolta su un tema che riguardava montagne molto lontane da noi tuttavia ciò che conta è lo spirito mostrare cioè qual è il senso del concetto di montagna nella classicità. Prima di chiudere il capitolo sul Certamen Alpinum volevo effettuare un ringraziamento particolare alle professoresse Maria Rosa, Zizi e Daniela Spinelli che sono state le organizzatrici del certamen e senza le quali il certamen stesso non si sarebbe realizzato. Per quanto riguarda la certificazione in lingua latina è una proposta dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che suggerisce proprio di effettuare delle prove e ne ha preparato proprio le caratteristiche sul modello di quelle delle lingue straniere ma con una diversa motivazione. Il fatto è che con il latino si conseguono delle abilità di problem solving e di open mindness che sono spendibili anche negli studi universitari oltre che nel mondo del lavoro. Il liceo Piazzi Lena Perpenti è da quest'anno sede delle prove di certificazione per la provincia di Sondrio. Professor Grassi, ritorniamo per un attimo al mondo digitale che è un mondo ricco di opportunità ma anche ricco di rischi. Voi avete su questo fronte elaborato dei progetti contro ad esempio il cyberbullismo. Sì, il nostro liceo è capofila del progetto di rete io conosco, tu conosci in rete consapevolmente. È un progetto finanziato dalla regione Lombardia che ha come obiettivo la sensibilizzazione a scopo preventivo sui fenomeni del bullismo che purtroppo stanno assumendo anche un rilievo negli ultimi giorni e del cyberbullismo. Quest'ultimo molto insidioso perché transitando attraverso le piattaforme digitali quindi attraverso computer e smartphone è molto più difficile da riconoscere e da caratterizzare. e questo non solo da parte nostra nel senso di riconoscere per poter prevenire e eventualmente reprimere ma da parte dei ragazzi stessi che talvolta non si rendono conto di commettere atti di bullismo digitale scambiandoli per scherzi o per qualcosa del genere. Qui dovremo anche noi fare tutto un ragionamento in quanto dobbiamo capire che i ragazzi conoscendo questi mezzi fin dalla loro nascita hanno un concetto della riservatezza e quindi di quella che noi chiamiamo la privacy diverso dal nostro e su questo dovremo lavorare. Di queste ore, professore, anche il provvedimento a livello europeo che impone per l'utilizzo di WhatsApp l'età minima di 16 anni. Cosa ne pensa? È un provvedimento molto opportuno e andrà via via inserito anche sulle altre piattaforme sociali. Il fatto è che questi strumenti sono recentissimi e quindi soltanto da pochi anni sono stati messi alla prova. Quindi soltanto ora ci si rende conto che accanto a opportunità estremamente vaste e di grande rilievo ci sono dei rischi molto forti. Concedere quindi un accesso indiscriminato a queste piattaforme pone dei ragazzi che non sono ben consapevoli del loro uso in una situazione di pericolo senza che loro stessi se ne rendano conto. Effetti che non potranno mai essere del tutto cancellati ma ciò vale anche per la vita di tutti i giorni. Grazie.